live e brista addiction bar con il nostro appuntamento io sono marco bracca e sono un appassionato di orologi e il titolo ragazzi è un clickbait totale ma voglio che questo sia il tema di oggi da qui dovranno partire le domande da qui dovranno partire gli spunti di discussione perché c'è tanta tanta gente che sostiene questo per me non è assolutamente così io direi di buttare già dentro in sala audio i due ragazzi che sono in sala d'attesa l'ex meme che ha la camma accesa no assolutamente no niente camma accesa se no mi banno non ho responsabilità Alex togli la camma mi dissocio beh dipende cosa mostra però ragazzi sta ancora caricando allora io non sento Ion Bale che è lo special guest di questa sera Ion Bale vedo la tua icona che si muove ma non buonasera a quelli che stanno arrivando per la live Alessio93 Alex Andrew GTD Snowflake buonasera a tutti ovviamente l'invito è aperto ragazzi se volete venite su discord allora Ion Bale vediamo la tua icona che ogni tanto sfarfalla ma non ti sentiamo ciao Walter benvenuto e intanto benvenuto anche ad Alice Butti che ha appena followato e grazie a tutti c'è un uomo mascherato che fa eco chi è chi è che fa eco chi è l'uomo mascherato buonasera Elge Pebuk che nickname che avete raga buonasera a tutti allora io direi di mettere la musica perché la musica con la musica è tutto più bello dovrebbe sentirsi ammetti dancing no no eccolo siamo ecco già un bel po' di persone sono arrivate molto bene Alex Paiala underscorsa cugino buonasera cugino un altro abitué delle live buonasera a tutti buonasera a tutti allora raga vi metto qua nella chat il link anzi avete modo di mandarmelo voi raga oppure lo faccio io aspetta provo in vita eccolo qua copia ok copia vi metto qui in chat il link per entrare su discord ragazzi se volete essere dei nostri cliccate qua e vi aspettiamo vi sentite? eccolo bene 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 eccolo eccolo fate casino dove? sono successe varie cose nuove e Wilson è esploso ah no eccolo no Wilson è tornato solo che l'ha muto allora cugino sono successe cose nuove e succedono sempre cose nuove i temi dell'ultimo periodo sono stati soprattutto Tudor Kenissi quindi la questione manifattura o no ma il tutto parte da elucubrazioni abbastanza fantasiose e folli di alcuni personaggi memosi di questa community allora molto bene molto bene dire che possiamo iniziare e Ayrolandia grazie per gli otto mesi ovviamente sei invitatissimo per entrare su discord allora Ayunbale intanto volevo farti un sacco i complimenti grazie mille perché allora ragazzi non so se avete visto il suo video ma fa pisciare dal reader cioè secondo me è tipo il video più creativo in assoluto che io abbia visto su questa su questa community opera d'arte opera d'arte grazie ragazzi è veramente bellissimo è davvero non vi dico niente non vi metto neanche il link andate tutti iscrivervi al canale di Ayunbale fate un video bellissimo bellissimo e secondo me è anche grazie a queste piccole cose da ragazzi giovanissimi come te che smentiamo la questione orologeria è finita cioè parte tutto da questo la risposta mia è questa cioè mi basta vedere il tuo entusiasmo l'entusiasmo di un ragazzo di tanti ragazzi giovani come te è merito il mio entusiasmo è molto vostro grazie Ayunbale no veramente guarda è stato veramente divertente l'ho rivisto tipo 3-4 volte no sono felice sono felicissimo ma hai fatto un botto di views tipo 7000 6500 no no è funziona ma infatti ho visto che te funzioni tanto Alvi benvenuto nella Brist Addiction ho visto che te funzioni tanto Ayunbale quando fai queste trollate che fai questi video semicomici si si è quello il foco punta su quello no perché sei bravo veramente no infatti ma mi diverto anche a farli grande grande ma allora a questo punto a questo punto boh lo vediamo lo rivediamo insieme in live si dai dai lo rivediamo insieme in live allora io io non vedevo l'ora di rivederlo è troppo bello però qui devo mettere devo mettere in pausa la musica naturalmente tra l'altro ancora mica quanti like quante views ma veramente veramente ma poi in poche ore in poche ore l'hai fatto tutte quelle visualizzazioni allora ragazzi state per osservare l'opera d'arte più incredibile dai tempi del video del Daniel Wellington del Jacob Merlini ovviamente ovviamente non si vede un cazzo aspetta datemi un secondo window capture devo fare due passaggi ok no chrome per favore aiutami discord chrome eccolo qua allora siete pronti vediamo siete pronti allora ditemi se l'audio via sono arrivato 600 iscritti un buon amare benvenuti in questo bizzarro viaggio io sono una voce e se me lo permetterete vi accompagnerò per questa strampo di sea questa opera di finzione non vuole criticare o offendere nessuno né appassionati né non appassionati quelli sono strappare una risata allo spettatore detto questo sedetevi comodi lasciatevi pullare dalle mie dolci parole buona visione è troppo evangherion sta cosa comunque un nuovo giorno ha inizio un non appassionato di segnatempo si alza al mattino ed inizia a prepararsi per la giornata imminente ma qualcosa di storto accade il suo fedelissimo orologio da marca ok ha smesso di funzionare dopo un breve funerale è giunto il momento di trovare un denio erede la ricerca ha inizio che poi è verissima sta cosa buonasera a tutti benvenuti gran parte di noi ha avuto questo percorso molti di noi quasi tutti quanto c'hai messo a farlo? settimane no sembra una cavolata ma è stato molto molto difficile perché se lo faremo gli altri fashion watch essessimili sono prodotti in cina costi la stessa e la qualità non ci girerò intorno è veramente povera questa sensazione non ci girerò è terlo non ci girerò è pedro ancora se non c'è è la quantità non ci girerò non ci girerò la quantità non ci girerò non ci girerò non ci ha ecodesto è il principio il piccolo pezzo che entra nella community un grande passo per il mio appassionato questo è l'inizio di un grande viaggio ci saranno momenti di gloria ma anche di grande disperazione ma quel che è certo è che qui comincia l'odissea di un appassionato di orologi è giunto il momento che il nuovo appassionato scelga il suo vero primo segnatempo per poter entrare ufficialmente nel magico mondo degli orologi ormai non è più un ingenuo pollo da spennare con dei fashion watches ora insulsi ai suoi occhi è preparato ma la scelta che lo aspetta sarà la più ardua della sua vita il mercato è vasto e i criteri di scelta sono tanti devi piacere esteticamente avere un buon rapporto qualità prezzo non costare troppo avere una buona reputazione in la community essere adatto all'uso quotidiano e altro ancora la lista è lunga ma non voglio tediarvi oltre ed ecco infine dopo svariati giorni la ricerca è giunta al termine ne ho appassionato minere il carrello e preme il grilletto è finalmente entrato nel magico mondo degli orologi ma è ignaro del fatto che coinciderà con l'inizio della sua rovina questa è una tappa facoltativa gli appassionati più scaltri levitano come la peste ma ahimè l'esemplare analizzato in questo documentario c'è cascato in pieno è ora di iniziare a costruire la propria collezione di orologi ma il neo appassionato si sente ancora sicuro su investire molto denaro per la sua passione così entra nel mondo dei PMW i poor man watches ovvero gli orologi degli uomini poveri semplicemente segna tempo dal costo contenuto i poor man watches non sono una categoria da evitare anzi ci sono orologi molti comici in questa fascia di prezzo ed altri dal rapporto qualità prezzo mostruoso e possono donare grandi emozioni ma c'è un grande male che alleggia all'interno degli appassionati la scimmia in poche parole la scimmia è lasciarsi travolgere dal fascino di un segnatempo ciò è inevitabile ed è la natura umana ma di solito il buon senso dice di no se il costo è proibitivo ma quando sono cifre più basse si acquista il prodotto con più disinvoltura e senza pensarsi due volte sono scompiato quando ho visto la scimmia ci sembrava di guardare Super Quark guardiamo ad esempio il caso di questo nuovo appassionato perché non comprare un muletto da usare al mare? perché non prendere un vintage economico ma dal grande fascino? è un cronografo entry level? un homage di un segnatempo che non puoi permetterti? ma si dai che vuoi che sia? un bel secco iconico? si e già che ci sei prendi tutti i divers secco economici e così via l'appassionato inizia a sperperare tutti i suoi risparmi e come una rana in una pentola sul fuoco non se ne accorge fino a quando non finisce sull'astrico ma ormai il danno maggiore è la dipendenza tra questo di orologi ed ora che non può più permetterseli il crevig si fa sentire finisce per strada viene diseredato dalla famiglia i suoi amici lo rimiegano ed è disposto a tutto per sfamare la sua brama bellissima anche la scritta sul cartone vabbè cioè il perfezionamento è troppo Evangelion cioè non può per forza fortunatamente in un intervallo limitato quale può essere la durata da vita moana se consideriamo quest'ultima una funzione continua in base al tempo e lo è a meno che non ci si imbatta in buchi neri o robe strane per il teorema di Weistras una volta raggiunto il minimo assoluto non si può andare più in basso ed è questo il caso dell'esemplare da noi preso in considerazione il quale un giorno giunge all'illuminazione non servono tanti orologi per essere un appassionato gli bastano pochi ma che abbiano un valore sentimentale estetico iconico o perlomeno economico ed ecco che il nostro eroe inizia a riprendere in mano la sua vita e diventa uno scaltro arrampicatore sociale pronto a tutto per riquadagnare l'onore e il prestigio perduto inizia a vendere i suoi amati segnatempo e con i soldi guadagnati fa questi più mirati resiste alle simile passeggere e ormai è temprato dai suoi errori passati buonasera lui e crevi è un ricordo lontano piano piano la sua collezione si definisce ed arriva il punto di fare l'ultimo grande passo buonasera siamo giunti all'atto finale l'appassionato di orologi è diventato un esperto e i suoi gusti si sono via via raffinate sempre di più gli orologi comuni da plebei non gli interessano più come una volta non ne trae più piacere fino ad arrivare da non dirne più nessuno tranne lui l'ultimo delle sue brame che segna tempo definitivo il cosiddetto crane watch quest'ultimo detto anche exit watch ovvero orologio di uscita è l'ultimo desiderio dell'appassionato ottenuto il quale si potrà ritenere soddisfatto ed appendere la sua passione al chiodo la ricerca del crane watch è molto difficile e spesso ricade su pezzi molto rari e costosi ed è questo il caso del nostro appassionato l'attesa sarà lunga per poterselo permettere dovrà lavorare sodo ma la determinazione non ci manca fino a quando arriva il fatidico giorno l'appassionato è pronto la sua avventura è stata lunga e riguardando indietro pensa a tutto quello che ha passato con un dolce sorriso è ora di spendere tutti i suoi sudati risparmi finirà tutto come era cominciato qualità recitativa con l'appusto di un segnatempo in particolare un orologio per domarli un orologio per trovarli un orologio per germirli e nell'oscurità incatenarli scusate sbagliato film torniamo a noi l'appassionato è pronto per l'ultima volta mire il carrello e premio il grilletto attimo di felicità penserete il tuo fine non è così? ma come ricorda il buon birbone Schopenhauer col possesso svanisce ogni attrattività il desiderio rinasce in forma nuova e con esso il bisogno altrimenti ecco la tristezza il vuoto la noia nemici ancora più terribili del bisogno in altre parole che fai? non ne compri un altro? rip oh secondo me questo è un capolavoro c'è la sintesi perfetta di quello che siamo è pura questo video allora buttiamo dunque per chi segue QDSS fa molto sinergo ecco infatti eh ci sono un fan lo ammetto io lo seguo sinergo da un pezzo in realtà quando ci sono le scivolate scienziate allora c'è un ragazzo ho buttato dentro un altro ragazzo Snowflake intanto buonasera Leonardo buonasera buonasera Snowflake allora ragazzi se io vi dice pongo la domanda a te Leonardo che sei appena entrato se io ti dicessi l'orologeria è finita te come la tua reazione la tua risposta a questo la mia risposta allora sono appassionato da poco per cui non so quanto esaustivo riuscirei a essere è ancora meglio cioè il fatto che tu stia qui da poco cioè sei uno nuovo cioè in realtà è proprio quello che a quale voglio arrivare ok non lo so secondo me dire l'orologeria è finita vorrebbe dire che non c'è più qualcosa che spinge la gente a comprare ma non perché deve esserci l'innovazione ma a comprare con sentimento nel senso perché si affascinati quello lì secondo me decreterebbe un po' la fine dell'orologeria perché non puoi comprare un pezzo un segnatempo senza avere passione a meno che non ti serva puramente da lavoro secondo me ho capito cioè quello che intendi dire te è il fatto che l'orologeria continua a vivere grazie agli appassionati in un certo senso sì soprattutto sì in un certo senso cioè senza gli appassionati non potremmo veramente sperare in un futuro per questo genere di cosa tradizionale no? sì soprattutto per quella tradizionale secondo me perché il quarzo per esempio lo prendi ma lo strausi anche per lavorare non lo so da tutti i giorni invece l'orologietto automatico manuale devi stargli dietro e se non hai quella passione quella fiamma tra virgolette non difficilmente ci stai dietro cioè sta nel cassetto e resta fermo là assolutamente allora infatti secondo me il fatto che ti faccio la domanda tu da quant'è che sei appassionato? allora appassionato da poco interessato da quando sono nato più o meno ok e quindi ti ritieni un appassionato consapevole da poco sì 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 ho detto cacchio sì sono appassionato da relativamente poco sì sarà un paio d'anni forse ok ok e bene cioè secondo me il senso delle parole di Stefano perché lì di questo stiamo parlando può avere senso dal punto di vista tecnico cioè per lui l'orologeria economica si è un po' stravolto come personaggio perché fino a due anni fa era completamente l'opposto per lui l'orologeria economica non è orologeria e quindi è per quello che dice l'orologeria definita perché non c'è più innovazione come una volta perché non c'è più la varietà di movimenti di tecnica che c'era una volta però è secondo me c'è un fermento della madonna nel settore ed è un puro clickbait il suo cioè un disperato clickbait non lo so ma secondo me gli orologi economici hanno dato sono stati proprio loro secondo me a dare il boom perché danno la possibilità anche a chi magari alla mia età io ho 19 anni studio non ho il lavoro però un paio di orologi economici ce li ho per cui e mi sono appassionato anche grazie a loro e io ti faccio un'altra domanda secondo te al di là degli appassionati poi ovviamente qui servirebbe avere dati di mercato al di là degli appassionati una cosa come l'orologeria secondo tutti voi che state ascoltando il mondo dell'orologeria tradizionale potrà avere un futuro nel mondo che arriva nel mondo che arriva quindi con gli smartwatch un mondo molto più frenetico molto più frenetico più tecnologico che guarda magari meno a questo tipo di accessori perché sono diventati vecchi eccetera quindi può avere un futuro ce l'avrà sì ma non florido come magari può essere adesso cioè se calano gli appassionati secondo me cala inevitabilmente la richiesta e l'interesse ma perché lo smartwatch è una cosa più da adesso non vorrei risultare non so spocchioso perché non è quello che intendo ma è una cosa un po' più tra virgolette popolare perché lo leggi come leggi il telefono ormai chi di noi non ha uno smartphone in tasca sì sì quindi intendi se lo smartwatch è l'oggetto che le persone si comprano quasi a prescindere come un cellulare l'orologio è qualcosa che devi fare in modo più consapevole magari come con più ricerca cioè devi dire lo smartwatch lo compri con la testa l'orologio lo compri col cuore secondo me ma credo sia sempre stato così a parte una volta lo sappiamo gli orologi erano proprio quasi fondamentali nella vita delle persone adesso magari di meno quindi è vero quasi quasi lo erano quindi ecco il segreto sta proprio negli appassionati secondo me ma lo stesso mi ricordo una frase che disse Cesare l'orologio disse più se ne parla più ne parliamo e meglio è nel senso ovviamente è una come tutte le altre passioni soprattutto quelle di nicchia vive di condivisione quindi cioè andare a fare il lavoro opposto quindi andare a demolire i sogni e la passione di ragazzi giovani che magari hanno la possibilità di scoprirti di innamorarsi e di poi andare avanti a coltivare questa cosa demolirli andando a cioè è proprio l'esatto opposto di quello che secondo me è un appassionato di orologi cioè parlare in questo modo così spocchioso dell'orologeria che è qualcosa per pochi soltanto che l'orologeria economica è una merda ovviamente sapete di chi sto parlando cioè ultimamente il suo canale ha preso questa piega e boh oggi sono un po' triggerato perché ho visto alcuni suoi video ultimamente e sono veramente da mani nei capelli ma no scusate Marco non credo di sapere di chi stai parlando cioè se non puoi fare nomi non farli ma sto parlando dell'orologeria del canale l'orologeria è finita lo segui? ah non so che esiste ma non lo seguo ecco meno male convertiti convertiti infedele no 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 non si allora allora intanto è entrato The Lake Hour buonasera buonasera ragazzi buonasera io ti rispetto a questo tema hai qualcosa da dire? cioè secondo te l'orologeria è finita? allora innanzitutto vorrei dire che manifattura significa esclusività ok la bomba no era una battuta no allora secondo me non è finita anzi cioè credo che e parlo per esperienza personale perché ho fatto dei regali ho fatto un regalo a un mio amico al mio migliore amico per la per la sua laurea e lui è sempre stato abbastanza interessato ma mai appassionato non è mai entrato veramente in questo mondo e regalandogli un pezzo un orologio come l'Orient oppure orologi come i Seiko che sono alla portata di tutti secondo me si inizia ad accendere una scintilla poi ovviamente se la base c'è può evolversi in un fuoco bello vivo però comunque è una scintilla e credo che ultimamente ci siano molti più microbrand di prima e questo significa che l'interesse è maggiore rispetto ad un paio di anni fa nonostante tutta la tecnologia ci sono una maria di microbrand ma tanti il fatto è che l'orologio è anche un accessorio una tradizione insomma il regalo esatto il completo elegante ci vuole l'orologio tipicamente meccanico assolutamente e poi comunque rispetto a un fascino innato rispetto a un quarzo o a uno smartwatch l'abito elegante con l'apple watch stona bisogna dirlo ecco voglio vi faccio un'altra domanda voglio che mi dite quello che vi fa quello che vi dà indossare l'orologio al polso cioè cosa provate buttate fuori dipende da che orologio ho al polso in genere dipende dalle persone che magari me l'han regalato ma secondo me è come avere qualcosa che pulsa proprio con un cuore vivo sul tuo polso non so come spiegarlo a me è un orologio ricordo un ricordo nel senso che per esempio il primo orologio serio che ho avuto è stato un sego alpinist preso sotto consiglio di Marco Brack un paio di anni fa che gli avevo scritto è stato super disponibile su Instagram e praticamente me l'ha regalato mia nonna a Natale e diciamo quando lo indosso mi ricordo di mia nonna che ora purtroppo non c'è più però è un ricordo sì sono d'accordissimo con te perché anche io ho un orologio che mi è stato regalato da mio nonno ho un altro orologio Marco io sono quello del del marna russo del russo quello lì ricordi uno dietro l'altro del tasca di quel soldato russo che era arrivato in casa sì 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 sono io sono io che figata cioè immagina immagina riuscire sarebbe sarà impossibile immagina riuscire a riportarlo alla famiglia originale sì sarebbe una cosa troppo sarebbe un'odissea ma cioè comunque solo l'idea del fatto che arrivi da così lontano mi racconta un po' racconta un po' la storia qui in live allora è un orologio vecchio che è vecchio a dire poco perché arriva dal primo dopoguerra più o meno e praticamente il mio bisnonno all'epoca era un bambino insomma non avrà avuto dieci anni poco meno magari e a fine guerra la sua famiglia ha accolto un soldato russo che dal racconto di mio nonno questo soldato ha passato la notte in casa lì dei miei nonni dei bisnonni una notte una singola notte giusto? una notte adesso ti dico è da un pezzo che non sento questa storia e magari due non lo so comunque che io ricordi bene una notte ospitato in pace e tranquillità dai miei bisnonni e niente il giorno dopo questo soldato riparte per chissà dove dimenticandosi questo orologio da tasca a casa dei miei bisnonni questo orologio è poi diventato del mio bisnonno poi di mio nonno e adesso è mio adesso è tuo no che figo che figo quindi tu non hai mai 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 più avuto notizie cioè i tuoi nonni non avevano mai avuto contatti con questa persona no no niente niente di niente caspita e la cosa sorprendente è che sto orologio mi cammina ancora ma bene anche farlo revisionare eh probabilmente ha bisogno ma se devo giudicare come cammina cioè pulito liscio proprio non perde un secondo non so sarà l'anima russa ma si i russi sono indistruttibili sì impressionante per la maggior parte chissà quanti madonna ha tirato quel soldato quando ha provato a guardare l'ora ha tirato fuori ha messo la mano in tasca e non c'era più ormai era esatto era a 300 miglia di distanza forse per dargli un bel ricordo dell'Italia esatto minchia sti italiani sti italiani che mi hanno rubato l'orologio i classici italiani no periodipi mai sentiti proprio no beh però io scamberei un piatto di pasta per il mio per il mio orologio vorrei dire dai una carbonara fatta fatta bene per quanto può costare un monia forse lo vale un patto di pietto di pasta raga vi dico aggiungendomi al discorso sul sentimento degli orologi uno dei più grandi sentimenti che mi suscita l'idea di non tanto di possedere io un orologio ma di che è legato all'orologio è quando voglio regalare un orologio qualcuno quando io voglio fare un regalo mi è capitato di regalare vari orologi ad alcuni amici e per me c'è sempre un pezzo di me dentro cioè quando vado a donarglielo mi si riempie proprio il cuore nel senso che c'è un pensiero che va avanti giorni settimane prima diversamente da qualsiasi altro regalo che faccio mi piace tantissimo cioè quando voglio fare qualcosa di bello a parte che sono io quindi è un po' scontato però ecco mi piace tantissimo anche regalargli gli orologi non so se vi è mai capitato io ho regalato un orologio mio nonno io è sempre bello vederglielo al polso noi invece ho regalato due blici di vostro canfibia a due miei amici che sono veramente rimasti soddisfatti direi i presi sui erano nuovi no su ebay nuove però ah ok no io non ho mai regalato un orologio anche perché diciamo che non ho cioè non ho amici che sono appassionati però eh farli diventare qualcosa qualcosa si sta muovendo perché per esempio quando ancora non c'era il lockdown io sono di Milano eravamo di sera vicino a Corso Come siamo passati davanti a una vetrina io ovviamente sono andato lì a vedere gli orologi che avevano esposti Matteo vieni su Discord hai visto gli orologi esposti? eh ho visto gli orologi esposti ci sono stati i miei compagni i miei amici che hanno fatto a chiedermi cos'era quello cioè tipo ho chiesto di un GMT perché aveva la quarta lancetta quindi per farti capire il livello di informazione che avevano sugli orologi ok e diciamo che gli ho iniziato a spiegare un po' le cose e uno dei due miei amici ha iniziato ad appassionarsi si sta un po' informando dai ai canali per vuole comprarsi adesso un Kamasu però vuole trovare l'offerta giusta vabbè di ripazientare qualche mese poi dopo ogni tanto c'ha la discesa il prezzo quindi bene cavolo bene 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 e dovete farlo tutti con questi amici anche se avete amici che ai quali tenete pensateci magari a un regalo di laurea una festa qualsiasi cosa eh io lo regalerò a mio padre a Natale probabilmente per cui dai speriamo e glielo ho regalati due di orologio a mio padre e io gli regalerò un Promaster probabilmente perché essendo amante di Citizen ne ha già ne ha già un paio e probabilmente gliene regalerò uno dice Walter che lui ha influenzato tre o quattro colleghi di lavoro minchia dovremmo essere tutti come te immaginate veramente se avessimo tutti uno spread come il suo cioè far diventare appassionati tre o quattro amici vicini e poi quei tre o quattro amici vicini adesso sono poveri questi amici è vero sarebbe esponenziale sono nella fase della povertà com'è che si chiama la fase Iron Bale Iron Bale com'è che si chiama la fase della povertà cavolo aspetta ho vuoto no non ci credo la scimmia no la scimmia la scimmia è prima la povertà è una conseguenza della scimmia esatto pur meno occhi allora c'è c'è un certo vitto che è dentro ma non so se l'ho sentito parlare sì quello un bel ricordo degli italiani ah ok ok sì sì ho parlato parlato ok allora i ragazzi di Twitch avete anche voi una storia da raccontare venite su Discord a raccontarla ragazzi parliamone naturalmente il format delle storie rimarrà sul canale di YouTube ma qui può essere uno spazio anche proprio di condivisione no perché è bello comunque Marco devo farti complimenti perché diciamo che ho installato Discord stasera dieci minuti prima della live bene non so come funzionasse quindi dieci minuti sono stato zitto all'inizio perché non sapevo come demutarmi va tranquillo ma grazie mille comunque per essere qua Matteo vieni su Discord non fare la trollata vieni c'è fratini ragazzi in chat che è timido oh no devo unirsi allora parto io? vai vai posso? allora nel lontano 1963 i miei nonni si fidanzarono e il padre di mia nonna che era praticamente mezzo svizzero andò a comprare proprio un bello orologio e scelse l'Omega Constellation che all'epoca era appena uscito il terza serie hai una una referenza? no referenza no ma ho delle foto molto sgranate te le mandai su Instagram un tempo fa aspetta che ti mando un link che anni? che anni? 1963 dovrebbe essere il terza serie tutto coivo ah un paio i pan si si tutto d'oro con il quadrante d'oro vabbè e praticamente lo tende sul polso per 5-6 anni il sesto anno stava al circolo nautico perché era anche un grande appassionato di barche e un suo amico lo avvisò che 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 gli che gli che gli volevano fare l'orologio quindi glielo volevano rubare fatto sta che proprio tutto bene? proprio per miracolo si si sono vivo ok lo salvò perché lo buttò a terra in macchina l'orologio è intatto non so come ed è promesso per i miei 18 anni quindi fate conto che tra nel 2023 sarà mio ma quindi cioè gli era arrivata la voce che stavano per rubargli l'orologio non ho capito? si 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 e l'hanno nascosto ma come facevano sapere che gli stavano rubando l'orologio? è perché erano una grande una specie di era un circolo e c'era il bar di fronte che era frequentato da gente poco per bene e lì in mezzo c'era un signore a cui mio nonno fece dei favori e quindi glielo riferì ok meno male si è si è salvato per miracolo se trovo una foto te la mando mandamela mandamela allora ragazzi spornateci in chat allora vediamo se trovo qualche domanda interessante vai allora mio nonno ha un cioè ho rieditato mio nonno un unico orologio che ha un cronografo cassa oro la marca non me la ricordo ma penso sia una marca vecchia svizzera che ormai non esiste più e mia nonna mi raccontò che quell'orologio lo trovarono nel bar perché mio nonno e mia nonna avevano un bar e lo trovarono una sera verso luna di notte per terra nel bar senza cinturino né niente con il vetro rotto ok allora mio nonno l'ha portato dal loro orologiaio per farlo riparare e all'inizio gli montò un cinturino in pelle metto uno a caso e si uno a caso e dopo un po' di tempo mia nonna decise di regalargli per il suo compleanno fondendo un po' delle catenine d'oro che avevano dalla cresime o così si fa il cinturino d'oro il bracciale in oro e ancora ce l'ho e quindi quando quando diventerò più grande perché è molto importante come orologio lo indosserò mi ricorderò di tutte le catene d'oro che dentro e quindi un po' della storia della mia famiglia che bello bello bellissimo sono sempre storie belle da sentire queste qua perché ci sono sempre pezzi di noi dentro secondo me come ho detto sempre la cosa più bella degli orologi è proprio non posso dire il mantenere sempre vivi i ricordi un po' come quell'orologio russo di cui abbiamo parlato prima allora Walter questa domanda me l'hanno sempre fatta ma secondo me non ha senso anzi io la rifaccio ai ragazzi in chat perché ho risposto varie volte l'unico orologio che ti resta per la vostra collezione per quanto ci sono affezionato io direi il sarb 033 ma che abbiamo già o che vorremmo sentitevi liberi di dire boh quello che desiderate oppure quello che avete già non lo so beh il russo il russo allora che ho già in collezione l'alpinist che che vorrei in collezione è il brightling naivy timer aspetta che cerco la referenza monbrillant a 330.4 hai una foto da mandarci mandamela pure su su prenotazioni su una delle pagine su discord se ce l'hai così la metto se no aspetta che la vado a cercare buona pazienza io il cartier di mio papà cartier quale? ha buttato via tutto ha buttato via scatole tutto lo tiene nell'armadio così non sa dirti niente appena riesco a fare una foto la giro io alterrei il mio psycho panda perché sospettavo cioè se devo tenere un orologio per sempre forse sarebbe quello dal quale probabilmente sarei meno capace di separarmi separarmi di quell'orologio per me vorrebbe dire perdere probabilmente vale quanto tutta la mia collezione con l'orologio emotivamente parlando cioè peppe benvenuto c'è tutto me stesso dentro quello orologio direi a pari merito il mio seco panda anch'io che è stato il primo e seco anni 80 di mio padre è vero che io non so di quelli che ho già sicuramente non mi separerò mai dal marna e boh un orologio che invece vorrei proprio tanto aggiungere alla collezione è un pilot crono rattrappante ai gussi perché dici cioè sono innamorato ah ok ok aspetta pilot rattrappante sì credo di aver trovato la referenza giusta se vuoi vai mandami la referenza che lo guardiamo 387 903 903 se lo trovo vediamo uh bello va giù 7750 o è già uno dei movimenti di manifattura credo sia aspetta che provo ad entrare sì comunque è lui è bello diametro il canale di presentazione cioè il diametro è un 41 è grossino però è un pilot eh sì però io che non sono amante troppo degli orologi grossi questo però mi mi ispira troppo cioè è veramente troppo bello secondo me l'hai provato? no purtroppo però so che se lo trovo magari quando avrò uno stipendio più o meno decente non me lo toglie nessuno provalo allora provalo allora intanto è entrato in live Matteo Fratini eccoci eccoci ciao Matteo il movimento di manifattura ciao 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 Matteo allora Matteo ti rifaccio le stesse domande due stesse domande che ho fatto prima l'orologeria l'orologeria è finita? è finita? è finita è finita la morte è sepolta poi la seconda domanda dai di la tua di la tua ma in che senso l'orologeria è finita di quello che pensi la nuova quella in generale infatti io mi occupo di io mi occupo di vintage quindi lo sai il moderno ci sto dentro fino a un certo punto però no ovviamente non è finita c'è tanto da scoprire c'è tanto da collezionare ancora quindi secondo me è tutt'altro che finita opinione personale ok io ho perso ho perso la tua risposta tu che hai risposto a questa domanda qua io ho risposto sostanzialmente che basta vedere un video come quello di Ion Bale per rendersi conto che una figliata per rendersi conto che quanti anni hai Alberto? ah 21 rendersi conto che un ragazzo di 21 anni sia entrato in una community in un mondo eterno in un mondo che esiste da sempre senza paura e con uno spirito giovanile con una con una comicità che fa parte di una generazione che manco io ho a momenti cioè quindi non lo so è una cosa che è senza tempo quindi come si fa a dire che è una cosa senza tempo che fa battere il cuore a tutti finisce cioè è molto molto difficile che finisca avrà una crisi più o meno lunga ma è tutt'altro che finita la seconda domanda è cosa ti trasmette avere al polso un orologio importante per te ma importante ovviamente non in termini di valore no esatto quando indossi un orologio che ti emoziona cosa suscita ma guarda sicuramente l'orologio è un qualcosa a cui tu leghi dei ricordi sicuramente è qualcosa che porta con sé dei ricordi no o l'hai comprato magari per festeggiare per ricordare un traguardo personale quindi diventa quasi parte di te sono alcuni orologi però diventano io ne giro abbastanza e non tutti a non tutti sono legato ecco quindi ci sono alcuni capito che non da cui non mi separerei mai altri invece non sono così ecco chiedo in chat se si può spammare di nuovo il discord anche secondo me è la stessa cosa cioè ho alcuni orologi che possiedo che ho posseduto che non che fanno parte magari di alcuni miei acquisti compulsivi del passato altri che invece sono già parte della della mia personalità cioè come degli Horcrux praticamente quando Voldemort si esatto ottima descrizione quando Voldemort si scinde nei vari frammenti quando io metto il 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 glissina airman 40 mm anche se solo quel giorno l'ho indossato in quell'occasione l'ho usato molto ma in quell'occasione mi ricorda immediatamente quello io sulle dolomiti a 3000 metri con l'airman a usare la lunetta delle 24 ore per calcolare tutta la lunghezza di ore della gita quello mi ricorda degli scatti che ho fatto in montagna lo yema mi ricordo dei momenti personali che ho passato e ce l'avevo al polso il Psycho Panda l'ho detto prima semplicemente mi ricorda del me stesso di qualche anno fa della gioia che avevo quando mi sono appassionato all'inizio che era una cosa folle che mi che mi riempiva veramente le giornate in modo molto diverso rispetto ad adesso così come tanti altri orologi e invece ne ho altri che invece semplicemente ho avuto e possiedo o per lavoro o per appunto acquisti compulsivi che magari non hanno molto da dire e secondo me sono quelli che non senti tuoi nel senso esatto che sono tuoi sulla carta ma alla fine non è che c'è la parte di te dentro si che dici belli però ok non potrei mai per tutta la vita esatto sì invece poi ci sono quelli là che potrebbero essere magari non so marco col saico panda mi viene in mente che da che ho capito a te potrebbero dare in cambio non lo so un no demar fighe royal oak mega galattico ma tu il seco panda non glielo dai in cambio allora se beh però io a questo punto ci penserei allora se dovessi se dovessi non lo so vale troppo per me cioè partendo dal presupposto che non lo voglio vendere e che non lo venderò mai non lo avrei mai più indietro cioè la questione va bene ora c'ho in mano 20.000 euro mi compro un altro orologio più importante oppure mi compro altre cose belle ma il ricordo il ricordo di quell'orologio le emozioni di quell'orologio non te le ridà più nessun altro indietro perché ormai è perso e cioè sono orologi soprattutto col vintage cioè come fai a a rimettere le mani su qualcosa che ormai è perduto eh non puoi era come quando da ragazzino scambiavi le figurine dopo ti accorgevi che non so io giocavo alle carte di Yu-Gi-Oh le scambiavo a caso poi mi accorgevo che era fortissima che era rarissima e la volevo subito indietro e invece mi dicevo col cazzo me la tengo io lascia perdere ho veramente ho brutti ricordi quando te le scambiavo le non te le pregavano ho brutti ricordi ho brutti ricordi ho brutti ricordi bruttissimi ricordi delle carte e anche delle biglie no le biglie no ma Yu-Gi-Oh l'ho consumato cioè se penso tutti i soldi che ho fatto spendere ai miei che ho cercato di far spendere ai miei madonna si tra Yu-Gi-Oh e altri giochini dell'epoca si Yu-Gi-Oh Pokémon poi che ho speso io nelle carte e ora avrei al polso due Nautilus e uno Royal Oak come mi pensa che io ho fatto magia da 5 anni ho 72.000 mazzati di carte sopra in casa con tutti i soldi che ho speso mi compravo una gioielleria probabilmente ecco stavano una mazzata c'è altro che orologi veramente allora Giuseppe chiede ha scritto un messaggio sul gruppo Telegram ma con scarsi risultati ho un orologio Terra Cielo Mare World Time che mi è stato regalato anni fa avete mai sentito parlare di questa marca ho provato a cercarla allora io l'ho sentita l'ho anche provato una volta un orologio era un orologio tipo da tipo da motociclista perché aveva la corona in alto ore e due e il quadrante tipo storto tipo quando indossi l'orologio appunto mentre guidi la moto e il quadrante non è disposto a normale ma è tipo un pochino leggermente spostato sulla sinistra come lettura calibro svizzero qualità dignitosa una marca carina sinceramente non è che la conosco più di tanto però ma che figata com'è che si chiama? Terra Cielo Mare ma ne hanno fatti non è l'unico ovviamente di questo tipo in genere infatti così sono gli errori allora ragazzi è arrivata una challenge una challenge sì sì mi dona un euro se dico sopra la panca la capra campa sotto la panca la capra crepa ecco adesso caccia questo euro sborsa paga paga caccia l'euro allora hai scelto la persona sbagliata per la challenge in che senso? ah io? no lui lui che ha scelto a te per la challenge ma io ragazzi sono super balbuziente a volte quindi non pensate non pensate anzi dovrei mettervi tutti i ritagli di tutte le lavorazioni dei video che faccio veramente come Davide Cecchini eh sì sì ma io peggio cioè ci sono dentro degli scleri degli scleri con me stesso degli scleri con il mio gatto degli scleri con i bloopers bestemmie con i vicini che accendono il tagliaerba tipo mentre registro non avete idea comunque Marco oggi mi hai fatto morire con la storia Steven Sniper ma Steven mi sono accappottato qua in live ormai è proprio il suo nome Steven Sniper mi sono accappottato Steven Sniper è il totale ma sai che io la prima volta che ho sentito la storia ho detto chi cazzo è Steven Sniper fosse un youtuber americano nuovo quindi sono andato a cercare io non lo trovavo stasera alle 4 ho riascoltato la storia perché l'ho vista nell'arrival postata Watchmaniac incredibile e allora poi ho capito l'hai collegato è Steven Sniper ovviamente e questa quando l'hai concepita questa bella ma su telegram qualche mese fa non mi ricordo o qui in live non mi ricordo più ma io non ho ancora capito perché vi siete dissati vabbè dato che siamo in tema allora lo ricapitoliamo un po' io e Stefano eravamo amici non so se l'ho mai raccontata pubblicamente non mi ricordo vabbè eravamo amici ragazzi qualche migliaio di volte abbiamo iniziato a sentirci perché io avevo tipo 200 iscritti e lui mi era molto fiero di quello che facevo e credeva un sacco nel mio progetto nel mio canale vedeva tanta voglia di fare video tanta passione perché eravamo i primi quindi lui diceva caspita più persone ci sono a parlare di orologi su youtube meglio è no e quindi vedeva i miei video diceva cavolo va bene però devi farti vedere in faccia devi cercare di comunque apparire perché è uno youtuber per fare numeri deve apparire in video quindi io accettai il suo consiglio e fu preziosissimo quel consiglio per questo io continuerò a ringraziarlo perché probabilmente lui mi ha dato l'input lui mi ha dato l'input quasi come diciamo tra tante virgolette un mentore per fare youtube non mi ha mai dato un consiglio di montaggio mi ha consigliato una videocamera da comprare abbiamo iniziato a fare video insieme no poi dopo dopo chi sono apparso praticamente sono andato da lui mi ha invitato abbiamo registrato i video che vi ricordate insieme sia sul suo canale abbiamo prestato un orologio che sul mio con il talk show insomma avevamo fatto un video insieme una bella giornata insieme insomma una persona disponibilissima praticamente con il tempo poche settimane no pochi mesi dopo quando soprattutto dopo che ci siamo uniti con gli altri youtuber dopo una mia idea di fare un gruppo whatsapp quando io ho iniziato a fare un bel po' di visualizzazioni e di conseguenza nello stesso periodo in cui lo stavo superando con gli iscritti lui è cambiato completamente nei miei confronti cambiato completamente cioè come come posso dire una medaglia che tu la guardi e poi a un certo punto si gira al contrario e vedi tutt'altro e questo successe dopo che io ho fatto il video del Daniel Wellington perché lui si sentiva un po' il capo di noi youtuber si sente ancora così cioè lui è ancora nel suo mondo e quindi non potevamo dire quello che lui non voleva che dicessimo sostanzialmente quindi come un po' una cricca lui si sentiva il capo io dicevo ho detto in quel video una critica dei Daniel Wellington anche perché lui prima mi imponeva di non farlo praticamente e da quel momento lui ha iniziato a dissarmi prima di tutto nel gruppo whatsapp quindi internamente non andrò a dire cosa è successo però internamente mi buttava giù emotivamente tutti i giorni cioè io quando li mettevo lì le mie crescite di iscritti così ai ragazzi dicevo guardate caspita come funziona con i commenti gli altri erano contentissimi lui mi buttava giù diceva ma no ma come posso dire non non andrei da nessuna parte Marco non sei nessuno cioè non ti caga nessuno non puoi lavorare in questo settore vai a fare video in qualche altro in qualche altra community che forse è meglio città e praticamente scusa se ti interrompo vai non voglio spreare una micchiata ma tu in Italia se parli di orologeria così sei uno di quei cioè sei quello che ha più numeri in generale no si lo sono diventato ma lo ero già all'epoca quando mi diceva questa cosa e nulla praticamente da questo io praticamente ci ho litigato di brutto una volta perché sul gruppo veramente era diventato insopportabile si è riguitato da solo dal gruppo da lì in poi zero contatti fino a quel fatidico giorno in cui ha fatto quel video pazzo su di me dove praticamente mi ha di fatto diffamato da lì in poi una caterva una valanga di gente a seguirlo perché ha fatto il clickbait ha parlato cioè di fatto parla sul suo canale non parla d'altro cioè parla di me male di me degli altri youtuber parla male degli altri non parla bene mai di niente parla male di cose parla male di tudor parla male di rolex sempre di rolex parla male degli altri youtuber parla male delle aziende giornalistiche che fanno delle testate giornalistiche di moto parla male di questo dell'altro è veramente un bastian contrario un odiatore seriale ed è un po' un caso patologico cioè poi se sei qua che ascolti Stefano io magari avremmo modo di chiarire in privato prima o poi ma non mi piace quello che la piega che hai avuto che ha avuto da un bel po' di tempo a questa parte perché so che è una persona che sotto sotto sa studiare sa informarsi perché è un appassionato a un modo suo però secondo me in questo modo non ha nulla da dare di costruttivo al futuro di quella che vuole diventare una community e qua concludo non chiederemo mai in privato io volevo chiedere una domanda un po' personale però vai secondo voi io vorrei comprarmi un altro diver perché avendo un samurai io ho un polso da 16 16 e mezzo più tenente al 16 però ho un samurai che un samurai fadi che non ho ancora indossato perché voglio aspettare il momento giusto ok però vorrei comprarmi un altro diver e anche un altro diver che ho è il si deve zempro master full zoom vorrei comprarmi un altro diver per il natale voi mi consigliate psycho turtle o orient triton io psycho turtle per prestigio psycho turtle giusto per varietà ti direi orient allora per fare varietà anche io ti direi orient ma se vuoi comprarti il turtle c'è ha tutta un'altra importanza storica cioè hai un orologio iconico veramente iconico non lo so c'è anche in ottica come posso dire di creazione di una collezione a parte che ognuno deve comprare gli orologi che gli piacciono quindi non è che c'è una collezione giusta o una collezione sbagliata però il psycho turtle è una delle icone del mondo dell'orologeria è bellissimo c'è un orologio affidabile con una forma comodissima eterno come linee sempre giovane invece un vintaggino il triton non mi fa impazzire vintaggino cosa proponi ecco ma no perché più che altro ha già due diver quindi potrebbe prendere un diver uno skin diver d'epoca per diversificare un attimo la collezione ecco io di vintage ho un un psycho svegliarino si o il matic si un bel matic ecco grazie poi ho vabbè un citizen che lo comprai in un mercatino dell'usato all'inizio e solo che non lo indosso perché c'ha il disco data che non gira e quindi diciamo che se lo facessi rilesionare perderei i soldi che l'ho pagato 50 euro l'ho strapagato 50 euro non svegliarino no 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 un citizen anche che è forse peggio ah ok 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 forse era meglio 50 euro lo svegliarino la chat si la leggo la leggo scusa stavo un po' parlando prima non stavo leggendo in quel momento ma allora se ci tieni a questo orologio cerca un bravo orologiaio che non ti faccia svenare altrimenti vendilo no più che altro non è che non ci tengo all'orologio è che comprando un duo sono andato da diversi riparatori nella mia zona e il minimo che mi chiedevano erano 50 euro e diciamo che se avessi se l'orologio che in questione avessi avuto una storia dietro cioè l'avrei riparato senza ad occhi chiusi però avendolo comprato così in esoterzo su un mercatino diciamo che preferisco tenerlo lì come talisman per ricordarmi di controllare bene tutto prima di comprare ma hai fatto anche alla fine non hai speso 2000 euro cioè hai speso 50 euro non hai idea di quante volte ho speso io 20 30 50 50 50 50 in cagatine che poi sono rotti sono lì nel cassetto quindi vorrei parlare di quel Seamaster ciao ciao Simone il madonna il Seamaster vogliamo parlarne apriamo il vaso di Pandora allora ma quale Seamaster il Seamaster 300 il 36 mm che ho comprato io a San Donato minchia ero coi ragazzi al mercatino minchia vedo sto orologio minchia funzionava era tutto coevo esteriormente perlomeno ecco era la parola fondamentale e aveva una patina un po' un po' forte il quadrante aveva preso forse acqua però tutto sommato era bello e chiedeva un prezzo tutto sommato che si poteva fare sul mercatino nel senso mi bastava prelevare un po' di soldi e prenderlo vado con tutti i ragazzi vado con tutti i ragazzi super preso al Bancomat convintissimo di comprare di trovare l'acquisto del secolo lo compro minchia vado a casa e mi arriva un messaggio su Instagram dicendo l'avevo visto su subito.it ma il movimento è stato sostituito e no minchia mi è crollato il mondo addosso tipo per due giorni di fila per due giorni di fila non ho fatto nient'altro che cercare dato che ero via cercare di trovare quelle foto vedere se era lui dal quadrante che mi ricordavo che aveva un segnetto era lui in quelle foto di quell'annuncio subito il movimento dentro era un età di fornitura probabilmente il primo movimento basato su 2892 Omega dell'1120 non mi ricordo si era completamente magari arrugginito per il sale e avevano sostituito il movimento che di base è uguale identico a 2892 quindi l'orologio era tutto perfetto tranne il movimento e quindi l'avevo pagato il prezzo della cassa del bracciale del quadrante della corona del fondello però non era coevo e un sacco di gente mi ha detto che vendevo falsi mi ha accusato di cioè sono stato un coglione sono stato un coglione perché per primo non ho controllato quando sono il primo a dire di farlo poi tu mi ricordo l'avevi anche dichiarato lo vendevi come dichiarato e quindi è pieno di gente che vendeva davanti di stampati perché incazzarsi con te che stavi dichiarando un dipetto eh lo so Erolandia sono stato un fesso sono stato un fesso ma più che altro una cosa che ti ricorda sempre che soprattutto nel vintage la praticatura sta sempre dietro l'angolo eh lo so sempre 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 lo so e il fatto lo scopri quando prendi la batosta poi penso che sia successo anche a te Matteo eh eh anche ultimamente ma meglio non meglio non parlarne guarda ok ok fortunatamente per adesso ne sono sempre uscito però si capita capita spessissimo allora c'è Sassi che chiede insistentemente di avere un parere di questo orologio metto la referenza a video cerco di trovare una foto discreta coronavirus allora join the chat pareri lo vedete ah secco presage secco presage nuova referenza quelli nuovi che ci sono adesso diametro 40 mm ma allora è un orologio valido però credo che a livello di listino sia ben ben sovrapprezzato perché mi sembra abbia dentro un 4R35 movimento semplicissimo che lo trovi in mille micro brand che costano 100 euro anche meno a parte il movimento 900 euro 900 euro no no aspetta no 900 euro 900 euro 900 euro no andiamo sul sito aspetta è un pello eccessivo 900 euro no no 900 euro mi sembra mi sembra esagerato dai puzza da inculata aspetta ce l'ho eh lo trovo subito in teoria ma va si prende a 400 l'hai trovato? non lo trovo sul sito mi pare che l'avevo trovato una volta sul sito però adesso non lo vedo è un presagio io di questi non so niente si di solito lì di molto bella hanno il quadrante ovviamente perché non lo trovo lavorati da dio non lo trovo ma cacchio sul sito il sito di Seiko forse è uno dei siti peggiori che conosco presage ecco forse l'ho trovato eccolo forse eccoli qua questi qui dovrebbero essere eccolo qua c'è scritto il prezzo specifiche no ma non può costare 900 euro 900 euro costa quello col 6R 35 e lì posso anche capirlo 460 ok ok no allora il prezzo è altino non è un furto però non lo so secondo me con 150 euro ci prendi un oriente bambino e fa lo stesso lavoro perché il diametro è lo stesso i materiali sono gli stessi in movimento pure più o meno listino 450 quindi ragazzi toglietegli un 20 almeno si trova dai lo porti a 350 350 lo prendi allora hai un Seiko al polso magari è un blasone più importante di un Orient però è comunque overpriced cioè tutti i Seiko adesso sono overpriced a parte veramente pochi ma poi se ti piace compralo cioè cerca il miglior prezzo io su questa fascia scelgo gli entry level per estetica e tu lo sai Marco sì assolutamente chi si fa problemi sul movimento che c'è in un orologio da 100 euro ma no infatti cioè sono quelli alla fine i movimenti se vai in Svizzera il 28-24 se vai in in Asia Seiko basta sono quelli che sono allora ciao Marco sono neofita anche la scorsa volta ho fatto una domanda secondo te un pulsante 17 cm con casse grandi possono star male allora casse grandi cosa vuol dire non vuol dire vuol dire poco e nulla os casse grandi perché ci sono orologi con casse apparentemente grandi come appunto un Seiko Turtle che è un 44 mm spesso ce lo dimentichiamo forse è 45 non mi ricordi 44 che però si porta si porta in modo unico non so come descriverlo lo stesso Lunar Pilot di Bulova è un orologio grande le persone si spaventano ma in realtà se vai a provarlo non è così grande è oggettivamente grande dai piccolo io sul mio polso l'ho provato ma è gigantesco il quale è il Turtle no no il Lunar Pilot adesso sto facendo vedere a video il Turtle come sta sul polso c'è questo è un orologio da 44 mm però ha una cassa ha una cassa una cassa Turtle cioè è una forma unica di Seiko cassa cuscino si cuscino la cassa Turtle tonda così ha una vestibilità unica dipende anche dalle conformazioni del polso dai gusti poi ci sono orologi grandi come i Panerai che effettivamente sono veramente grandi lì è un pregiziano dipende dipende anche dalla tua corporatura il polso non fa la circonferenza del polso non basta cioè devi andare a vedere un po' anche la vestibilità la tua corporatura quanto sei alto il tipo di vestiti con il quale lo avvini che orologio di che orologio stai parlando senza sapere il modello lo trovi scomodo vabbè dipende 16 e mezzo è un po' piccolo in effetti come polso comunque mi è salita la scimmia per il Turtle ecco bene bene è anche allora ci sono due ragazzi nella sera d'attesa che io vorrei che io farei entrare che ne dite abbiamo un posto solo va bene va bene abbiamo un posto solo guardo fuori io guardo fuori io ciao uccidete Vitto ciao Vitto grazie ciao Vitto grazie ciao 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 allora Nicola Nicola benvenuto smutati e benvenuto che co che coglione buonasera che onore che coglione minchia sempre nelle live adesso finalmente anche in voce ciao buonasera ciao buonasera che cos'hai che cos'hai da raccontare qua vuoi fare una domanda vuoi raccontare io volevo approfittare di Matteo Fratini perché so tanto complimenti al nome eh vabbè è un nome che ho fatto quando ero un po' più piccolo sull'età a cazzara diciamo così e volevo approfittare appunto per chiedere siccome mi ha fatto innamorare dell'Aristo bello il cronografo e io adesso ho voglia di comprare un cronografo però allora mi sono messo con Navi Timer però non lo so voglio qualcosa di sottile manuale anni 40 a cassa scalino così roba tipo l'Aristo anche se non c'entra niente con Navi Timer però siccome stavo vedendo dei vari cronografi eh già hai detto eh già hai detto anni 40 a cassa scalino già preparati a spendere diciamo che l'Aristo è proprio l'Invicta cioè il rapporto Invicta Rolex praticamente rispetto all'Onginna capito quindi con queste caratteristiche è tosta è tosta però ci sono ancora orologi che puoi prendere magari qualche qualche laminato oro però non sono tantissimo appetibili cioè più o meno budget tu quanto volevi spendere? io meno massimo 2000 ma 2000 magari qualcosa di 40 a me piace molto questo design testi a pompa questo design mi piace tanto bello è bello eh sì perché proprio questo qui tu stai facendo vedere un altro cioè la cassa è praticamente la stessa del mio no? però questo qui qual è il tuo? aspetta ce l'hai su Instagram giusto? vai sulla pagina The Watch Strategist che c'è una bella foto no c'è anche Odinky però ne ha venduto uno Odinky però era mangiato praticamente c'era anche la corona non originale boh non so adesso se tu puoi puoi o vuoi parlare di prezzi ma quanto l'hai pagato se vuoi pagato non si dice mai ti posso dire non si dice mai ti posso dire quanto lo rivenderei io che bello però quanto lo rivenderesti allora a me piace tantissimo quindi il prezzo è proprio sparato secondo me non non meno di 5 dai sto basso a 5 non lo venderei però dai 5 5 5 caramelle 5 caramelle 5 5 gole voglio approfittare anch'io di fratini però allora Matteo dato che sei qua qual è l'acquisto vintage dell'anno il mio in generale secondo te l'orologio vintage da acquistare quest'anno che secondo te da comprare quest'anno sì per l'anno prossimo no per l'anno prossimo che ne so io posso dire quello quello che ho fatto io che è stato molto buono indirizzata che non master c'è io praticamente mi sono aggrappato al treno mentre stava passando no che c'era un po' nell'aria questa la riedizione di vada stava facendo uscire i primi render del di che uno master e allora ho detto sai che c'è me ne è capitato uno il prezzo è onesto perché il pezzo di questo qua era onesto mi sono aggrappato poi non salivi esponenzialmente lo sai un sacco beh poi il tuo in ottime condizioni vero sì questo qui è di fino anni 60 e cioè lo vedi c'ha un giusto un segno sull'inserto ma è perfetto quindi io direi il vintage dell'anno e lì vada caro master lì vada caro master senza dubbio però secondo me anche qualche altro vintage che si può comprare sono cioè tenete d'occhio che la famiglia bulla va a snorkel e noi non voglio essere non voglio essere di parte perché ce li ho però secondo me di fatto di fatto di fatto Matteo quello che vuoi fare te praticamente un po' con il tuo progetto è andare a scoprire e far scoprire alcune perle del passato e rivalutarle sostanzialmente cioè il tuo lavoro è chiaro è chiaro perché cioè adesso con con Rolex è difficile fare gli affari devi essere un po' bravo tu ad anticipare dei trend oppure l'affare è difficilissimo trovato perché adesso con internet nessuno di regala niente nessuno di regala niente no ma allora ci si volevo vai parla scusate no no vai vai scusa no 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 vai ah ok volevo approfittare Marco se mando un link di subito sulla chat di di twitch si 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 mandalo pure posso mandalo per far vedere perché ho trovato uno skin diver e volevo capire se ne valeva la pena o meno mandalo dunque ti oncolo benvenuto nella pista e ma siamo chiamando consulenza d'acquisto sei tete un colore si è il mio secondo account l'ho appena creato con tablet perché il mio account si c'è l'account che uso è ok ok si chiama snowflake come ah infatti non stavo capendo allora intanto che non si vede una sega devo zoomare un po' che schifo madonna subito.it è il peggior sito del mondo per vendere orologi proprio schifo si compresso si compresso è Matteo? no ho visto una mezza podo e vediamo allora non capisco vai aspetta che marca è? sconosciuta? ma non è uno sconosciuto ma non è uno skin diver no no è un è un diver non è uno skin diver è bondix la marca ma perché il quadrante sembra di due colori diversi no infatti è riflesso si è scuro in realtà è tipo un quadrante arancione a specchio quindi a seconda dei riflessi boh allora la ghiera a meno che sia stata sostituita un'era fa sembra essere ancora la sua perché è tutta bella vissuta poi boh qui qui ci sei tu Matteo come si fa ti posso dire la mia? vai allora parte con con queste foto io non comprerai neanche le goliador queste foto qua però ti dico la cassa non è firmata non ci sono foto del movimento è pieno di orologiai che hanno pezzi di fornitura nei cassetti e ricambi no ma si lo assemblano con quello che hanno in casa e fanno un orologino prendono un movimento che non usano cassa che non usano un bel quadrante che hanno lì 200 euro non sono pochi 200 euro non sono pochi è per quello cioè nel senso meglio risparmiare per il turtle o buttare ma nuovo o d'epoca ma in realtà cioè su questo qui tu non hai certezze cioè non ci sono certezze che è stato assemblato no no infatti io te lo sto facendo vedere così a pancia nel senso poi ovviamente al venditore aver chiesto foto del movimento e varie varie altre cose ma allora chiedigli più foto possibili magari dentro trovi una specie di referenza o altro però so già che è impossibile trovare qualcosa di manche sconosciute su internet io non lo prenderei ti posso dire ma neanche io la cassa è bella però ma si secondo me ad occhio secondo me è stato assemblato chi lo sa l'hanno assemblato secondo me eh eh non ho visti secondo me l'hanno assemblato sto cercando di vedere se c'è una firma mi puzza non mi condice allora Yama chiede è sempre un pacco il venditore indiano anche se il commerciante è verificato su Crona24 allora questo è razzismo io mi dissocio greve no allora allora se compri da ebay un orologio tipo seico da un venditore indiano lascia perdere o un oris o un oris compri l'oris con il dial a fiori e a quadri che scrivo si vedono si vedono proprio perché sono indiani per guarder per non vedere però in realtà se è un venditore certificato e l'orologio ti sembra coevo cioè tu guarda l'orologio non lasciarti giudicare dal venditore guarda le foto dell'orologio cioè se che altro che altro tieni conto della dogana anche quella butta su tanto il prezzo cioè quando la gente pensa di risparmiare su cronoma 24 dall'estero perché vedono dei prezzi stracciati poi devi aggiungere una bella mazzata e anche per quello che in italia paghiamo un botto gli orologi in negozio perché c'è un IVA della madonna ma determinate volte si riesce anche a risparmiare però è da tenere nel calcolo del prezzo quel buon 30% in più per stare larghe poi è meno siete gentilissimi mi state facendo appassionare questo mondo posso solo ringraziarvi vorrei comprare il mio primo orologio con i risparmi pochi e vorrei prendere il kamasu verde secondo voi come orologio da tutti i giorni può andare è certo che può andare perché no perché no cioè non trovo un motivo per dirti di no dimmi Matteo kamasu fantastico caro armato ma tu l'hai visto il nuovo longjin bigai quello col quadrante blu cioè è vero esiste oppure oddio non l'ho ancora visto lo sto cercando sì ho visto qualche fotina di sfuggita sì anch'io però siccome non sono quasi informato sull'uomo è su watchbase è in titanio ed è su watchbase pare proprio di sì aspetta che vado a controllare watchbase è un sito abbastanza serio ce parlano di cari come solito no eh sì esiste l'ho mai visto però aspetta che lo metto se devo essere io non ho mezzo parlato con Fante di questa cosa qua se devo essere sincero non mi fa impazzire cioè se deve essere vintage deve essere uno se no altrimenti creio un casino a parte che la cassa è figa come quello di prima la lista di prima è bellissimo però blu così sinceramente non mi fa impazzire eh a me sì prezzo si fa bello sale prezzo sarà come l'altro due e mezzo di cosa parlavi con Fante? ma no io gli dicevo che secondo me con questo quadrante blu così è cassa in titania un po' uno schiaffo al carattere vintage di sto orologio e il big eye secondo me è quello lì infatti è quello che ho detto io quadrante nero eh infatti cioè se prendi un orologio vintage in tutto e per tutto vintage è come non lo so un altro esempio simile non è che mi viene in mente però immaginati sempre il longin degli heritage tipo il conquest heritage come il mio con il quadrante blu hanno fatto il legend diver il bonzo quadrante di questo colore mi sa che non trasmette niente non lo so sì perché è il loro modello di punta ma qual è il 36 mi pare quello piccolino lo fanno colorato sì hanno fatto i 36 colorati ma perché per le donne ragazzi provano a farli di un po' tutti i colori l'hanno fatto l'hanno fatto blu e l'hanno fatto rosso o comunque marrone quello viola io me lo prenderei sinceramente è bellissimo è un po' strano il calibro però legend diver viola si lo prendiamo gli orologi viola ha fatto il 36 color purple allora è il momento cinesata è il momento cinesata oh no cos'è capri watch no vedi eccolo lo hai un bel sì 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 le sinesata mia 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 eccolo il quang queen ma anche questa è orologeria ragazzi è un nh36 allora questa è alta manifattura cinese ragazzi lo voglio ma me lo son sognato marco questa marca c'era anche in un tuo video no forse sugli orologi economici ma sono sognato forse sì eh sono quasi sicuro ma questo cos'è il cugino scemo di Longin cos'è eh infatti da lontana fa un po' stizzaro allora forse una volta l'avevo messo uno ma non aveva una cassa così brutta no mi ricordo che ne avevi messo uno diverso più minimal ma mi pare che l'avevo messo uno una volta è vero ma perché era per fasce di prezzo alla fine il calibro è valido esatto cioè però c'è non è il miglior è un marchio storico cinese al pari di Sigult comunque la lunetta sembra che cioè ci manca solo il surfista e siamo alle Hawaii questa qua diventerà la lunetta di tendenza fra 50 anni e gli appassionati di Quang Quing speriamo mai è vero Matteo secondo te alcuni microbrand di oggi hanno la possibilità di diventare come diceva Squarsi di diventare vintage se continuano tutti quanti a fare il bracciale integrato per vendere qualcosa no basta si uniformano si se fanno come HTD forse minchia HTD secondo me c'ha potenziale eh c'ha potenziale sono veramente veramente figli ma hanno hanno in mente di portare qualcosa di nuovo nuove linee nuovi modelli allora io poi con i ragazzi è nata proprio un'amicizia quindi ti posso dire che i dei ce ne sono e anche tante quindi però purtroppo c'è sta situazione qui che ha ricordato un po' tutto quanto si quindi se ne parlerà l'anno prossimo come minimo almeno da quello che so io poi magari vediamo per dicembre se esce qualcosa ma non non ci sa nulla ok secondo me HTD può far scattare anche in qualche pazzo la voglia di collezionarli tutti perché alla fine sono abbordabili con qualche soldino te li prendi tutti e li tieni proprio da collezione sono ho capito poi sai cosa al polso io ce l'ho qui il mio aspetta vediamo se lo trovo il jungle vieni su discord in video eh no vietato sono tutto al buio aspetta no vieta fa niente sto cercando il mio jungle ma non lo trovo la scrivania è veramente carino no no cioè tu al polso lo vedi ce lo senti proprio che è che è un vintage io la prima volta che l'ho visto mi sono emozionato io mi emoziono difficilmente con gli orologi nuovi anzi quasi mai e quello quando l'ho visto ho detto cazzo questo è veramente questo sembra veramente un vintage quando è che ti compri un orologio nuovo eh ce l'ho il HTD ti si è preso un citizen pro master il citizen pro master che c'ho anche quello qua sopra eccolo qua ce l'ho in mano adesso tanta roba al pro master bello vero questo è il jungle tanto vero tanta roba tanta roba al pro master vero ma si è diver migliore su sta fascia di prezzo secondo me e non solo secondo me secondo me io con il pro master ho fatto una roba che se la sentite strappate i capelli in che senso cosa hai fatto diciamo che io sono uno che sperimenta nel senso e quindi ho provato ho tolto la ghiera al mio pro master e l'ho messa nella cioè le ho tolte tutte le guarnizioni e l'ho messa nella candeggina per farla via dire se ha questo il termine esatto e poi gliel'ho rimessa ed è venuta a me piace un sacco boh ma in realtà su orologi così economici ci sta cioè per maltrattarli un po' cioè secondo me è mezzo modato insomma ma si è una mod cioè non è che hai distrutto un vintage è lecito no no infatti super lecito super lecito secondo me anzi c'è gente che lo fa sugli SKX alcuni si scandalizzano ma regà sono 200-300 euro d'orologio ma che cazzo vuoi dire una volta una volta una volta c'è un canale di un asiatico non so bene da che parte dell'Asia venga che fa dei seiko si chiama loom shot si ho capito forse ho capito che fa un sacco di mod strane si si che praticamente assembra gli orologi cioè prende un quadrante del turtle e con la cassa del del samurai per esempio si si ho capito devo dire io se se gli indosserei un orologio così perché comunque sono tutte parti originali certo magari uno dice che è assemblato però io personalmente li indosserei voi io no neanche io non ce la faccio non credo io non credo ma proprio c'è un rifiuto mio verso non lo so verso gli orologi non coevi cioè non ce la faccio non ce la faccio perché non lo so sarebbe come andare in giro con un alfa romeo la giulietta io c'ho la giulietta con i cerchioni della ferrari con i cerchioni con i cerchioni di un'altra alfa o con non lo so cioè snaturi proprio il concetto di design originale ti togli l'anima non lo so è un po' un franken è quello che poi chiamiamo nel vintage franken io non lo farei io non ho capito la domanda c'è gente che modda i seiko moderni tu indosseresti un orologio moderno moddato consapevole di averlo comprato moddato ce lo compreresti con pezzi scambiati pagato a prezzo di mercato quindi pagato a prezzo di quanto chiede il tipo che te lo vende del modder eh dipende quanto chiede cioè se il tipo è cosciente che mi sta vendendo una cosa che non è originale ok se il pezzo mi tiene conto perché no come mod forse l'unica mod che indosserei io che infatti la vedo da anni che mi piace un botto di no se la trovo voi parlate intanto io la cerco di no se la trovo ma sì se l'ho pagato bene sì perché no lo sappiamo che stai cercando la ghiera gmt marco no 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 cosa che non sopporto quando mettono le ghiera gmt a caso esatto no questo no questo non lo basta sto cercando vediamo se lo trovo comunque un SKX con la ghiera in acciaio in alluminio grigio semplicissimo quelli ogni volta che li vedo mi chiedo perché Seiko non li abbia mai prodotti ah sì le fa le fa l'amico di TGV che fa anche gli Islander Watch che sono ah ma omaggio ai Seiko SKX sì sì ho presente gli Islander con varie tipologie di ghiera vediamo se li trovo e cavolo non li trovo perché lui vende anche se ghiere cioè per mod su SKX oltre che sui suoi orologi diciamo oh raga ve lo giuro non lo trovo comunque una cosa simile vagamente a questo però molto lontano da questo in realtà con una grafica molto più simile a quella dell'SKX questo è questo no questo non mi piace adesso non lo trovo purtroppo ecco sulla pagina Instagram di Seiko SKX c'è proprio la community dell'SKX avete presente? così mi ricorda mi ricordo il Tudor quello nuovo sì è il Tudor che è un omaggio di questo Seiko chiaramente eccolo lo trovavo questo qua cioè questo mod qua probabilmente è l'unica mod che io indosserei che comprerei addirittura guardate che spettacolo questo mi piace mi è sempre piaciuto e non è la prima volta che lo vedo non ho visti tanti bello questo veramente comunque io poi ho una domanda per voi vai allora su un diver Citturino in pelle sì o no? sì senza problemi sì senza problemi anche se tu non mi fai il bagno io vado controcorrente dico no secondo me dipende nel senso per farci il bagno per magari che ne so ora mi immagino un Submariner con il cinturino in pelle per fare il bagno no però vi hai ragione ma in generale come estetica non mi dà cioè se sta bene da dove lo devi usare Matteo se sta in spiaggia al ristorante Matteo cioè guarda cioè guarda la foto come è questo cos'è un referenza vintage ci sta è dove hai trovato questo è bello vecchiotto l'ho trovato l'ho trovato su google la referenza è un 6536 c'è una scritta lì rossa secondo me il cinturino in pelle così è la morte sua vabbè su questo qua perché su questo qua ovviamente non lo userai mai a male no ma no vintage ci sta però io dico su un moderno no hai visto sai quelli che dicono su che ne so sul 6 cotato lei mette un cinturino in pelle hai fatto un sacrileggio ma allora il sacrileggio di cosa cioè da dove partono tutti questi dogmi non lo so non lo so si poi dipende secondo me secondo me se devi farci il bagno al massimo gommato secondo me però se devi usarlo magari come everyday watch ci sta anche in pelle ma no allora quello lì è una necessità pratica ma allora perché il cinturino di pelle lo distruggi parlando puramente di estetica vedo il problema ma allora quando viene tipo ad esempio Manuel Maggioli che stimo eccetera appunto Gomare cioè quelli sono proprio dogmi che sono leggi non scritte di persone che si ritengono essere i veri collezionisti quelli che veramente addettano le regole ognuno deve fare quel cavolo che gli pare cioè io ho sempre avuto questa idea che non ci deve essere una regola l'orologio destra o sinistra Gomare braccialare portare un diver con una camicia ma andatene a fare in culo cioè potete fare quel cavolo che volete con l'orologio eh per esempio io l'orologio lo porto a destra e perché no cioè scusami cioè perché no ma io lo porto io non lo porto più che altro perché essendo mancino a scuola cioè io i primi i primi anni cioè ti dico dalla prima superiore fino alla seconda superiore ho sempre portato l'orologio a sinistra però scrivendo a scuola tanto mi dava un sacco fastidio da quando l'ho messo a destra mi sono trovato benissimo eh stesso problema anch'io solo che io non l'ho mai tolto dalla sinistra quindi no io non sono capace di tenerlo a destra ad esempio neanche io non ce la faccio non sono proprio capace io proprio perché sono mancino che devo tenerlo a sinistra a me capita anch'io mancino a sinistra ha parlato con a disturba mi disturba fortemente ma ma grazie mille per la sub potreste guardarmi il ovvio ovvio che lo guardo allora dov'è che è rimanda il link rimettilo che lo guardiamo io ad esempio quando metto gli orologi a destra capita raramente tipo quando devo andare in giro con due orologi per necessità e uno lo metto a destra piuttosto che tenerlo in tasca ma tipo mi viene il male cioè non ce la faccio mi da troppo fastidio non sono abituato io ho anche il problema che essendomi rotto il polso destro è più grosso di quello sinistro e quindi dovrei se ho il bracciale devo regolarlo ogni volta il mio polso destro è anche anche il mio è più grande effettivamente forse deriva anche da una mia vecchissima frattura mai curata sai ero caduto sul polso dicono tutti che è una frattura non curata Marco dicono tutti che è una frattura non curata lo diciamo tutti ma non possiamo allora se poi escono che se poi escono sempre temi dell'orologeria tipo Vekis da Stoccarda cosa ci possiamo fare non è il mio problema perché sono anche un mancino siano troppi mancini qui dentro presente eccomi allora ragazzi io vedo un altro vedo un altro ragazzo Federico che sta in sala d'attesa facciamolo entrare perché poi vorrei tra un po' chiediamo la live e vorrei che non rimane lì con la bocca asciutta chi si offre chi si offre io esco io ragazzi grazie di tutto è stato bellissimo grazie Alberto grazie a te ciao Albe ciao complimenti ancora ciao grazie ciao ciao ti guitto io ti sposto in un'altra stanza ok ecco Federico è entrato Federico smutati e palesati io ragazzi avevo una domanda vai vai una domanda un po' strana se vogliamo ma visto che in questi anni i vari Valjoux 22 23 72 eccetera stanno andando così su è fattibile che una qualche casa non lo so del gruppo ETA del gruppo SWAT insomma per intenderci riprenda in mani i progetti e azzardi azzardi a ricreare un calibro del genere ad un costo anche molto molto elevato di migliaia e migliaia di euro però è fattibile sì perché hai messo la premessa del costo elevato però no no certo cioè ormai ormai sarà necessariamente elevato ormai il cronografo a carica manuale è quasi una prerogativa del lusso in Svizzera anzi è solo una prerogativa del lusso a parte l'SV500 10 non mi ricordo più il cronografo in generale il cronografo economico non esiste il cronografo a carica manuale è una prerogativa del lusso come hanno rifatto il 321 di Omega e come continuano a fare l'1861 non vedo perché non tirare fuori magari tra un bel po' di nuovo quei calibri per rifarli non vedo perché no secondo me è fattibile come cosa più che altro costerebbe un sacco anche riprocurarsi i macchinari ma no non credo si oddio no ma basta per tutti i pezzi che vengono creati a controllo numerico immagino che basti chiaramente riprogrammare i macchinari che hanno già in un format diverso diciamo ecco no per carità però ha comunque un costo a livello industriale no no certo altissimo a vedere se il gioco vale la candela poi certo certo però proporli a prezzi competitivi allora il prezzo competitivo secondo me allora se non l'hanno fatto ancora fino adesso ci dobbiamo fare alcune domande però perché non l'hanno fatto finora cioè la possibilità e il budget secondo me c'erano soltanto che probabilmente non ne vale la pena al momento forse secondo me più che altro se devono rifare una riedizione non interessa cosa c'è dentro ma l'estetica mi stanno facendo mi stanno facendo un ride con sette utenti porta podcast grazie mille ragazzi io vi lascio per stasera buonanotte grazie 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 ciao 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 ragazzi buonanotte ciao buonanotte benvenuto verrus nella vrist addiction allora io direi che il ragazzo che è entrato prima federico federico smutati è la tua ultima possibilità grazie per il ma se sai forse chi è eccolo eccolo vediamo se lo conosci marco parla ciao sei uno dei federichi sai che mi stava ho letto il tuo nome prima ho detto federico ho detto ma cazzo magari la prossima invitiamo uno di invitiamo htd è che io ho un nome troppo tra amici bullettinazzo benvenuto grazie per il follow grazie per essere qua stavamo parlando di voi prima qui siamo tra amici sì vabbè ma sai il mio nome questo è il nome da nerd che si usa tra amici quando si fanno i live su discord quindi adesso un po' soprattutto in quarantena si è usato tantissimo discord allora innanzitutto complimenti penso anche da parte dell'utezza qua per gli orologi che state producendo per quello che state portando avanti perché è un progetto assolutamente interessante meritate attenzione meritate clientele tra l'altro come va volevo farti un paio di domande più interne come vanno le vendite prima domanda e poi magari un'unica risposta e seconda cosa per quanto riguarda la fornitura e le riparazioni dato che spesso la gente dice che l'ST19 gli orologi non lo riparano voi come vi attivate avete comprato una fornitura avete pezzi allora prima domanda è abbastanza bene diciamo che noi non seguiamo i flussi di vendita cioè ti spiego quando abbiamo iniziato a mandare i primi orologi abbiamo mantenuto il sito chiuso alle vendite perché volevamo gestire anche un'assistenza successiva se qualcuno si fosse trovato ma ok quindi in generale noi non c'è ad esempio ora si avvicina a Natale non è che stiamo stiamo lì a dire ah sì a Natale bisogna fare cose particolari noi vendiamo qua perché c'è la gente che piace il nostro prodotto e vede quella cosa in più quindi in generale sono sempre molto stabili anche con covid non cambia molto ok quindi c'è un c'è sta funzionando comunque avete venduto un po' di orologi sì sì no è tranquillo poi comunque nel senso stiamo cercando abbiamo visto che c'è stato molto ritorno perché anche l'assistenza è stata come avevamo poi detto in precedenza quindi la gente ha visto che noi eravamo sempre presenti sempre leali e quindi questo si è tradotto poi nelle vendite successivamente ok e invece la seconda domanda quindi un po' più pizzicante quindi la gestione delle eventuali riparazioni cambi ricambistiche eccetera allora se poi ti faccio anche una percentuale di numeri di cose successe diciamo di orologi che non siamo riusciti a mettere a posto ci sono stati due su 200 e passa quindi diciamo lì c'è stato proprio un discorso che erano movimenti che o si cambiavano completamente o niente quindi avevano erano movimenti che magari avevate vi era scappato magari un elemento un difettino quindi sì sì no ma prima di partire proprio dalla nostra ah durante il controllo qualità ah quindi ad esempio non sono ancora rientrati degli orologi per delle riparazioni mi sta dicendo sì sì no sono rientrati ma erano sciocchezze ah ok sciocchezze che può succedere durante il trasporto capito che magari la racchetta di registrazione si sposta o che la molla di di carico della cronografia minuti rimane troppo intenzione sono quelle cose che la maggior parte 9 su 10 erano il trasporto quindi non erano problemi dovuti al movimento ok e la seconda domanda che in pratica è la è il nostro core diciamo il nostro core business il fatto che noi avendo il laboratorio possiamo stare dietro alla clientela con una con assistenza reale cioè quando un orologio ci arriva a noi siamo noi aprirlo e a metterci la mano comunque c'è da dire una cosa cioè il sigul è un movimento che veramente dà un sacco di magagne tipo quindi c'è durante la sbavature delle proprio della lavorazione no mi dice mi dicevano i ragazzi che c'è un sacco di percentuale di movimenti che arrivano pallati e loro gli scattano poi a prescindere quindi gli scattiamo e poi vengono comunque ripresi in un secondo momento diciamo l'abilità nel tempo si è aumentata quindi siamo anche riusciti a riprendere parecchio tanti movimenti alcuni come si diceva prima non so te ne spiego uno ce n'è arrivato uno che era impossibile farla andare perché era ovviamente disassestata tutte le ruote cioè avevano erano dimensioni che non non toccavano nemmeno infatti c'era era proprio fatto alla cazzo di cane lì lì non fa niente non è che ti puoi inventare orologiare lì deve essere il fresatore che ti mette a rifresare i buchi delle ruote dove stanno i rubini che costa molto di meno ricomprare il calibro nuovo sì infatti però comunque anche lì Sigul negli ultimi mesi è sempre stata meno aperta quindi è stato anche difficile contattarli è stato difficile mettersi a parlare con loro insomma diciamo un progetto quando nasce è bello però poi dopo escono fuori delle magagne che noi siamo stati fortunati perché se non avevamo in laboratorio non sapevamo a chi andare a è il vostro è il vostro come posso dire il vostro plus è il lavoro che mi piace sto bene se non mi piacesse ecco ma poi quello che io ho detto sempre io a loro ma sono dei pazzi perché hanno iniziato con il cronografo no che è l'orologio più rognoso cioè per partire con il micro band è più l'orologio più rognoso in assoluto però hanno fatto bene grazie mille iuri per la sub hanno fatto bene no sì sì no lo hanno lo hanno fatto bene molti partono con o il solo tempo o il diver che comunque ci butti dentro quel movimento il cronografo è tosto per iniziare no e poi metti caso che l'utente lo prende fa partire il crono lo azzera forzatamente senza stoppare la lancetta spacca tutto e poi dà la colpa all'azienda che gliela ha venduto male è capito perché come siamo un'azienda piccola e capiamo le problematiche e abbiamo cambiato senza problemi ora magari non dico agli altri rispondarlo ma insomma è che dovremmo fare un foglietto illustrativo il doppio di quello che l'abbiamo fatto in cui dire tutte le varie problematiche solo che cronography for dummies sì è un po' è un po' problematico essere come ha detto Matteo la prima collezione è fare cronografi non è devi essere col pelo diciamo col pelo forte se no non se no è un casino no ci credo comunque sono orologi abbastanza delicati per natura poi questo movimento abbastanza controverso cioè se ne parla bene se ne parla male quindi è un po' no poi guarda noi quando escono dal laboratorio sono segnati sul cronocomparatore tranquillamente in tutte le posizioni non ti dico cost però ma vanno da dio lo so per esperienza che vanno veramente bene questi movimenti qua però la racchetta di registrazione per esempio è veramente sensibile è sensibilissima la sposti di un micro ne va avanti 20 secondi che è una cosa allucinante però sai in laboratorio comunque si riesce a risolvere tutte queste problematiche il problema purtroppo è che per far pagare così poco un movimento cronografico di tagliare da qualche parte in tal caso nel controllo qualità all'origine infatti meno male che ci siamo noi se no sarebbe sarebbe un casino no che poi il movimento va vai vedi no no le aziende in cina lo usano come un movimento da scartare quando a loro gli arrivano i pezzi di scarto che poi tante volte sono sciocchezze come per esempio c'è capitato un piccolo lotto che aveva la problematica che in pratica quando facevi azionare il crono la lancetta cronografica di secondi faceva uno sbalzo di 10 o 15 secondi all'indietro e poi partiva e a cosa era dovuto questa problematica era dovuta alla molletta che teneva in tensione la ruota della sfera cronografica che secondi che era leggermente cioè era proprio piatta non era più una molla quindi a quel punto di basta prendere la molla dargli la forma che desideri e poi basta è risolto il problema invece le aziende lo so fanno più in movimento lo buttano e se ne fanno da uno nuovo con poi avendo sempre la stessa problematica magari però vanno avanti non lo so come qual è il loro modo di pensare nel mio modo di pensare nell'azienda che abbiamo fatto è perché odiamo la qualità che sappia cioè noi gli orologi che vendiamo li abbiamo aperti li abbiamo visti li abbiamo lavorati quindi è tutto un altro che non è un prendo in cassa e manda poi se ci sono problemi ci si rivede quella è la è proprio il punto sul quale dovrete ancora di più insistere a livello di comunicazione si si e un'altra domanda che ti faccio direttamente dal punto di vista della comunicazione quindi della della pubblicità cioè so che ti sei mosso vi siete mossi con Matteo con psq mi pare sì e per il futuro avete in mente piani influencer cosa del genere o vi ritenete soddisfatti per il momento ma ti dico marco tu sei sicuramente una cioè c'eravamo già sentiti all'inizio no non sto parlando di me ovviamente no vabbè a parte gli scherzi mi piacerebbe comunque lavorare con voi no è un onore no il piano c'è diciamo che Matteo Pasquale sono quando sono venuti anche noi non sapevamo bene cosa cosa aspettare c'è stato tutto un un'evoluzione felice diciamo e ora per quanto riguarda le campagne di marketing e quello che vogliamo fare ci stiamo tenendo sempre molto stretti perché stiamo in un periodo un po' difficile non so se l'acquisto è un acquisto voluto non lo so noi ora come ora stiamo andando forti anche sul territorio avendo il laboratorio la gente viene ti vede li compra quindi non non è problematica sotto però più avanti tranquillamente sì ci piacerebbe però ci piacerebbe far venire le persone perché è lì che si vede la differenza degli HDD rispetto agli altri che non manda l'orologio e fa la recensione ma che si si vive un po' di più le realtà di avere un'azienda che fa orologi che non fa orologi che piglia compra e rivenda orologi perché sa quello che sta facendo essenzialmente quindi è quella la diversità è così che ci avete fatto innamorare a noi comunque è così che ci avete fatto innamorare a noi eh esatto chiedono dov'è il laboratorio di questi ragazzi molto toscani allora ora è in piazza piattellina a Firenze in Borgo San Frediano però ci stiamo spostando leggermente di due strade perché il laboratorio è di un orologiaio che lavorava per Zenit insomma l'avete l'avete conosciuto avete visto e noi abbiamo bisogno di più spazio e quindi ci trasferiamo di due strade in modo tale da poter stare sempre vicini a e c'è questo rapporto romantico fra l'anziano e il giovane quindi noi ci stiamo tramutando il lavoro andando avanti eh per me è una cosa bella bellissima perché stiamo mantenendo comunque l'artigianalità e il saper fare non voglio eh come dire non voglio ehm accusare le altre non voglio accusare le altre marche che magari quello che vendono non sanno cosa c'è dentro però più o meno siamo a quei livelli noi puntiamo su un altro tipo di di livello quindi vediamo magari più avanti ci evolvere avremo anche un'evoluzione su movimenti vediamo stiamo mettendo al baglio tante cose ve lo auguro insomma grazie per il contributo Federico sì non la sicuramente allora mi ha fatto un sacco piacere grazie a te allora io prima di chiudere vorrei esaudire la domanda di Yama che mi ha anche rinnovato la sub che ci voleva far vedere questo orologio su crona 24 e ci chiede un parere cosa che ha chiesto ha chiesto esattamente la domanda era non lo vedo più l'ho perso eccolo qua puoi guardarmi lo zenith respirator del venditore indiano di cui parlavamo prima è questo qua Matteo hai già visto questo orologio lo conosci? eh sto in delay quindi un attimo che non mi arriva dalla podo ok cos'è? è uno zenith cassa quadrata sinceramente mai visto bello però come quadrante mai visto e ribalto la foto flip certo che la provenienza non è proprio del più affidabile se devo essere sincero ma anche le condizioni non mi sembrano proprio il top ma poi sto quadrante verde così a me puzza tantissimo non lo so non lo so ma di che anno è? c'è scritto? vieni un po' se sulla descrizione quant'è che costa? 600 euro 600 euro sono tanti eh ma se c'è sto quadrante così ma boh gli voglio altre foto no non lo so eh cioè se ma allora aspetta no la seconda foto sembra in effetti molto più bella ma il vetro il vetro ma non è un vintage però scusa ma penso proprio di sì mai visto ma neanche io l'ho mai visto questo qua è il calibro eh sì che è un vintage sì sì no allora il movimento è originale è di fattura economica però allora 600 euro non lo so è un orologio che non ho mai visto mai 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 e in effetti le condizioni non mi sembrano strepitose però magari è una foto fatta da cani vediamo un po' guardati guardate qui dietro la cassa guardate il fondello come è tutto smangiato io sono in delay vorrei questo punto qua non lo so magari è un riflesso ma c'è una foto del fondello è questo qua sto facendo del fondello aperto sì eccolo qua eh sì da sotto girato eccolo qua da parte dentro da parte dentro eh sì qua l'ho appena messo ok ma in effetti mi sembra ma non lo so no io allora io a naso non lo comperei e mi pido abbastanza del mio naso quindi cioè io lo lascerei lì poi anche la provenienza non lo so ma mi sembra un po' tutto tutto sbeccato come non lo so non mi convince ma magari esiste ma magari esiste pure però io non l'ho mai visto e sinceramente non lo dò neanche un orologio così tanto appetibile poi d'è per questo che costa 600 euro neanche io neanche io io non lo comperei neanche io nemmeno io e poi mi sembra appunto tutto conciato come condizioni o le foto fanno veramente pietà oppure le foto fanno schifo le foto è bello conciato ma da dove si vedono questi dove si possono vedere infatti qui in chat dicono dai al fake ma infatti l'impressione è quella che mi dà l'impressione è quella non lo so non lo so comunque io non mi esprimo perché non lo conosco come vintage nemmeno io ma a naso ti dico lascialo lì e quando il tuo istinto ti dice di non comprare dai sempre retta boh poi ripeto non sono 200 euro io voglio fare una domanda vai e poi chiudiamo cosa ne pensate del nuovo bulova acutron eh costa troppo hai laggato quale nuovo acutron quello l'abbiamo parlato nella live scorsa mi pare ah non c'era allora se posso posso fare un'altra domanda secondo voi ci sarà mai possibilità di una nuova complicazione meccanica in un orologio con complicazione cosa intendi cioè complicazione classica come può essere un GMT la soneria o cose del genere sì sì una complicazione nuova ma se ne inventano se ne inventano continuamente di complicazioni cioè mi viene in mente quella degli HIT che fa vedere Beltrandi con la l'indicazione liquida quella è meccanica certo se ne inventano soprattutto nell'altissima orologeria c'è sempre un certo livello di pionierismo come cavolo si può dire a inventare cose nuove scordatelo nella fascia di prezzo economica scordatelo anche banalmente un nuovo tipo di calendario ce n'è ho anche una complicazione estetica allora l'ultimissima domanda l'ultimissima che leggo in chat sì ti rispondo a atalante zin 104 sa 1 che cazzo ho copiato è il classico zin 104 questo è uno degli orologi più fighi secondo me che produce la casa è entrato un fanter è entrato in chiusura fanter ma fanter ma l'avete messo nel canale live sì sì l'ho già messo è muto è mutato non lo so è messo è la versione indiana di fanter oh il zin 104 secondo il verde il zin 104 tornando al tema adesso lo state vedendo io lo trovo semplicemente bellissimo come orologio molto tedesco molto zin robustissimo è un orologio che comprerei assolutamente e lo so perché ancora non l'ho comprato vacca boia ma invece con il nomos come ti stai domando nomos è la semplicità fatta a orologio esteticamente bellissimo questi diventeranno i nuovi vintage del futuro alcuni dei nuovi vintage del futuro però abbiamo parlato molto spesso di nomos quindi direi di non dilungarci troppo anzi lo recercisco tra un paio di settimane secondo me diventeranno molto molto collezionabili in futuro tra un bel po' di tempo quando andranno fuori in produzione dico comunque chiudiamo dai grazie a tutti per essere passati grazie alla chat grazie a tutti quelli che hanno dato il loro contributo qui su discord ricordo a tutti anzi diciamo l'ultima spammata vediamo se ce l'ho ancora copiato l'ultima spammata in chat su twitch per invitarvi a venire qui le prossime volte e noi ci possiamo salutare buonanotte a tutti a twitch e alla prossima ragazzi grazie anche a chi la vista differita ciao ciao voi su discord non vedete un attimo che vi saluto con calma ciao ciao buonanotte ragazzi grazie a tutti chiuso grazie volevo salutare fatti